Ionex e zone 100 c'era molta attesa per testare il nuovo modello di questo attrezzo di successo made in japan questa Ionex e zone 100 è una racchetta per tutto e per tutti si gioca bene in quanto a potenza e controllo un po da tutte le zone del campo e lo possono fare tutti dai quarta categoria sino ai professionisti ho provato anch'io la nuova e zone 100 con gli amici di tennis italiano e la troverete nel prossimo numero